Alan Hemperer, uno dei volti nuovi di questo Teramo, intanto vuoi descriverti nelle tue caratteristiche? Sì, sono un centrale, ma posso giocare anche a sterno, a sinistra. Sei un mancino. Sì, mancino, mi piace giocare alla palla e direi che sono un giocatore veloce e con tanta forza. Come mai questa scelta proprio di Teramo? Allora, io a Teramo dovevo venire due anni fa, però non ci sono stati presupposti per venire perché non ho trovato l'accordo con la Fiorentina. Quest'anno è appazza di nuovo l'opportunità e sono venuto. Senti, cosa pensi di poter mettere a disposizione di questa squadra del Teramo in base alle tue esperienze precedenti? Vabbè, posso dare una mano alla squadra. L'importante è fare gruppo perché alla fine il campionato di Serie B è lungo, avremo bisogno di tutti. Direi che la cosa più importante è fare gruppo. Come ti stai trovando con questo gruppo, con i nuovi compagni? Chi conosci di questi nuovi compagni? No, era un gruppo già compatto, si è visto, sono tutti dei bravi ragazzi, tutti dei ragazzi disponibili. Avevo, conoscevo già Cenciarelli e D'Assiva. Cenciarelli ho giocato insieme e D'Assiva abbiamo giocato contro nel settore giovanile. Vivarini lo conoscevi? Sì, ma non di persona, il telefono lo conoscevo di due anni fa che mi aveva chiamato. Di Teramo cosa ti ha impressionato, cosa hai visto in particolare? Allora, io ancora non sono stato in città, città. Mi ha impressionato la tifoseria che sono venuto in tanti oggi a sostenerci e ci fa piacere. Infatti sei rimasto impressionato da questi tanti tifosi che oggi sono arrivati fin qui per seguirvi. Sì, non me l'aspettavo perché magari il ritiro, essendo a Teramo, non me l'aspettavo. Ci ha fatto piacere avere il calore del pubblico. Promesse al pubblico? È promesse ancora con calma, non li facciamo, aspettiamo di iniziare il campionato, di fare bene, di fare un gruppo compatto, poi ce la giocheremo con tutti.